Sì Marina, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del Tg8. Con la telecamera di Andrea Berardinelli prendiamo la linea nel consueto collegamento del nostro Tg delle 19.30 per darvi i numeri del bollettino sanitario di oggi. Allora partiamo subito dal numero dei nuovi positivi al Covid-19 che sono stati registrati oggi. Sono 304 in più di età compresa tra 10 mesi e 94 anni. Quelli di età inferiore a 19 anni sono in tutto 73. Questi 304 nuovi positivi sono stati trovati su 8.476 tamponi di cui 4.447 molecolari e 4.029 tamponi rapidi. La percentuale dunque dei positivi è del 3,6% in leggerissimo aumento rispetto a ieri quando la percentuale dei positivi era invece del 3,3%. Nel bollettino dei deceduti ce ne sono 10 nuovi in più da registrare. Il totale sale a 1.934. Questi 10 deceduti di oggi hanno unità compresa tra i 60 e i 95 anni. Non sono tutti di oggi per la verità, mi correggo perché di questi 10, 4 sono decessi avvenuti nei giorni scorsi ma riferiti dalle ASL soltanto nell'odierno bollettino. I dimessi guariti sono in più rispetto a ieri 986. Gli attualmente positivi al covid in Abruzzo sono 11.678 e questo è un dato che scende in questo caso di 694 unità rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono in tutta la regione 667, meno 8 rispetto a ieri. In terapia intensiva purtroppo dobbiamo registrare due nuovi ricoveri in più e quindi in terapia intensiva i posti occupati sono 89. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono attualmente 10.922 persone, meno 688 rispetto a ieri. Adesso veniamo ai dati relativi alle province, ai nuovi contagi perché di questi 304 nuovi positivi vi diciamo che la provincia che oggi ha fatto registrare il maggior numero di nuovi contagi è quella dell'Aquila con un più 92, seguita dalla provincia di Pescara con un più 82, quella di Chieti con più 74 e la provincia di Teramo che oggi invece ha registrato più 30 nuovi positivi al covid-19. Tutto questo ve lo raccontiamo io Andrea Berardinelli con la sua telecamera da Chieti, alle nostre spalle l'ospedale Santissima Annunziata e vi diciamo che in provincia di Chieti, nello specifico a Francavilla al Mare questa mattina o meglio nel primo pomeriggio sono partiti anche i vaccini con Siero-Pfizer agli ultraottantenni. Allora questa mattina abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Lusani che ci ha riferito quanto chiediamo alla regia di mandare in onda e poi ovviamente Marina ti restituiamo la linea. Buona serata. La popolazione di Francavilla, degli ultraottantenni è una fascia di circa 2000 persone, delle quali circa 1200 hanno dato la propria adesione tramite l'iscrizione in piattaforma della ASL. Nella giornata di oggi, in quella di venerdì e di sabato mattina, il distretto sanitario con la dottoressa Rosa Borgia e grazie anche al direttore generale della ASL Thomas Schell vaccinerà i primi 240 anziani, ma poi a seguire andremo avanti, io conto che in una decina di giorni esauriremo tutta questa fascia. Inoltre ci sono delle iniziative perché ci sono quasi mille anziani che non si sono iscritti, non hanno dato la propria manifestazione di interesse, e quindi abbiamo attivato uno sportello della protezione civile per favorire quelle persone che magari non sono in grado da sole di prontarsi sulla piattaforma, basterà telefonare un numero che forniremo alla cittadinanza per poter far sì che i ragazzi della protezione civile possano procedere all'iscrizione per conto della persona anziana che lo richiede. Quindi questo e altri servizi faremo per agevolare al massimo. Con la ASL stiamo mettendo a disposizione anche delle strutture comunali, pensando alla vaccinazione di massa che verrà, perché la questione dei vaccini certo non finisce qui, e quindi stiamo adattando dei locali che avevamo destinati al centro del riuso, che invece in corsa stiamo modificando per renderli idonei alla vaccinazione. Abbiamo già messo a disposizione la tensostruttura a fianco al palazzetto dello sport, penso che domani firmeremo la convenzione con la ASL, con il dottor Rochelle, col quale mi sono sentito pochi minuti fa, e questa tensostruttura appunto sarà utilizzata insieme al distretto per poter implementare, per poter aumentare i numeri della vaccinazione. Tornando invece ad AstraZeneca, sindaco, qui presso il distretto sanitario avevate già avviato la vaccinazione con AstraZeneca. La situazione che si è venuta a creare poi nel momento in cui è arrivata la notizia della sospensione, qual è stata? Un po' di timore, sicuramente abbiamo ricevuto qualche telefonata, però devo dire che è stata vaccinata più oltre la metà, quasi due terzi della popolazione del personale docente, personale scolastico e anche universitario. Particolari problemi non ne abbiamo ricevuti, non abbiamo avuto segnalazioni di problematiche legate al vaccino, quindi dobbiamo dire che tutto è andato bene, quindi le rassicurazioni che anche il Ministro della Salute e Speranza ha dato sembra che siano nella direzione giusta. Speriamo che l'EMA si pronunci domani in senso positivo in modo da poter riprendere l'utilizzazione del vaccino AstraZeneca e di poter terminare anche la popolazione scolastica. Aggiungo questo, io lo farei molto volentieri il vaccino AstraZeneca, lo farei anche subito se ce l'avessero a disposizione. Potremmo procedere per alzata di mano a questo punto? Io la alzo subito, sì.